do la parola al dottor scarfone grazie grazie per l'invito mi sono dotato di un cronometro e cercherò di stare nel quarto d'ora nel quarto d'ora canonico no volevo riprendere alcune delle riflessioni iniziali perché in qualche modo i trend che si sono innescati nell'ultimo periodo e che sono oggetto di riflessione diciamo nel nostro mondo attorno alla questione della mobilità sostenibile indicano delle tendenze che stanno modificando in modo significativo diciamo le dinamiche nelle nostre realtà sia nelle media grandi città ma anche nelle città di più piccola dimensione ci sono alcune tendenze legate alla concentrazione della popolazione nelle aree urbane che è un trend che riguarda non solo il nostro paese ma praticamente tutte le regioni del mondo in particolare quelle più sviluppate ci sono anche altri fenomeni che sono legati diciamo ai cambiamenti di tipo culturale di cui avvertiamo alcuni alcuni comportamenti anche nelle nella maggior sensibilità che ormai sta crescendo attorno ai temi della mobilità sostenibile e quindi può essere che si creino le condizioni anche nel nostro paese per come dire assistere a quel fenomeno che altri paesi europei abbiamo parlato della della francia cos'è successo no dicevo in altri paesi europei hanno dato vita a un vero e proprio rinascimento la descrizione del fenomeno francese è una descrizione diciamo che il professore ci ha fatto e che indica come dalla metà degli anni ottanta fino ai tempi nostri da nante a nizza e in francia c'è stato un fenomeno che non solo ha caratterizzato lo sviluppo di sistemi di mobilità moderni ma anche a riqualificato e ha fatto in qualche modo rinascere le città interessate vi sono alcune questioni alcune parole chiave che stanno emergendo il tema della della transizione ecologica il tema della mobilità sostenibile ma anche il tema dell'innovazione tecnologica perché oggi l'innovazione tecnologica ci rende disponibile strumenti sia lato cittadino e la e la sua interazione con i sistemi di trasporto sia sia lato azienda per per poter ottimizzare eh il sistema della mobilità eh vado rapidamente a descrivere con alcune slide il la realtà diciamo del gruppo ATB a Bergamo solo per sottolineare come eh noi come Brescia come altre città una quindicina d'anni fa abbiamo fatto una scelta strategica che era quella sostanzialmente di non gestire di non limitarci solo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico nel nostro caso le funicolari e i sistemi di autobus ma cercare di approcciare al tema della mobilità attraverso un'altra delle parole chiave di questo settore che è un approccio integrato quindi mobilità pubblica ma anche gestione della mobilità privata per cui per conto dell'amministrazione comunale gestiamo per esempio tutto il sistema della sosta il sistema delle ZTL il sistema del bike sharing proprio perché eh le soluzioni devono essere il più possibile integrate qui vedete eh di cosa ci occupiamo alcuni risultati che abbiamo raggiunto eh recentemente soprattutto in termini di passeggeri trasportati e qui diciamo questa sorta di mappa dove eh sono evidenti eh è evidente l'ampio spettro eh delle questioni di cui ci occupiamo questo tipo di approccio ci ha consentito anche di migliorare in modo significativo il il numero dei passeggeri trasportati che qui sono differenziati fra rete di autobus e funicolari e la nuova linea tranviaria di cui parlerò fra poco ma anche al 2018 ma nell'arco di cinque anni abbiamo aumentato del 10 per cento i passeggeri trasportati questi sono altri dati per cui introduco un altro degli aspetti chiave del nostro settore la competizione con le soluzioni private rappresentate dall'auto sempre più confortevole e dalla e dalla moto individuale si giocano anche sul tema della qualità e quindi il l'autobus o il tram devono essere eh eh mezzi ad elevata qualità eh questo approccio ci ha consentito anche di migliorare i risultati in termini di customer satisfaction e qui introduciamo un altro dei temi strategici che sta attraversando il dibattito non solo diciamo in casa nostra ma in astra che l'associazione nazionale delle aziende di trasporto e a livello mondiale il tema della vite della vite noi produciamo diciamo nel nostro contesto circa sette milioni e mezzo di vetture chilometro con una parte prevalente di autobus ma via via eh in crescita eh le altre componenti uno degli aspetti chiave è eh diciamo la tendenza al al miglioramento dal punto di vista della propulsione dei vari mezzi noi già oggi abbiamo due terzi dei servizi che sono erogati o con propulsione elettrica il tram le funicolari e la flotta dei dodici autobus abbiamo messo in servizio ormai più di un anno fa e una componente importante degli autobus è rappresentata dal metano per cui abbiamo una quota residua di circa un terzo che è ancora alimentata a gasolio e ci siamo dati l'obiettivo nei prossimi sette anni di convertire l'intera flotta in mezzi elettrici ibridi o a metano e qui apro diciamo una parentesi fra virgolette tecnica nel senso che all'orizzonte stanno venendo avanti anche delle soluzioni tecnologiche innovative per esempio sul versante degli ibridi fino a ieri gli ibridi erano ibridi gasolio elettrici oggi le grandi le grandi aziende di produzione dei mezzi stanno valutando gli ibridi metano elettrici c'è un problema di di gap delle industrie di produzione degli autobus che stanno rapidamente recuperando anche perché grandi realtà come milano e come parigi si sono dati obiettivi di elettrificazione della flotta e qui stiamo parlando ovviamente per parigi soprattutto ma anche per milano per quanto riguarda la nostra realtà di numeri importanti per quanto riguarda noi abbiamo sperimentato con successo l'introduzione della linea c la linea c è una linea circolare che è fatta integralmente di autobus elettrici e riguarda diciamo è una linea circolare che abbraccia il centro insieme a questo abbiamo attivato ormai da una decina d'anni la linea t1 che è una linea è una metro tranvia nella classificazione che prima il professore proponeva nel senso che ha il percorso praticamente in sede riservata a meno degli attraversamenti e ha una velocità commerciale di 25 chilometri queste sono le prestazioni e questo è il risultato economico nel senso che lo richiamo solo per il fatto che gli investimenti l'attenzione alla qualità e hanno consentito al nostro gruppo di realizzare risultati positivi dicevo che all'orizzonte ci sono altri interventi altri ambiti di lavoro mi soffermo tra i vari progetti che stiamo affrontando la realizzazione della seconda linea tranviaria che è la linea t2 che è una linea che riguarda in questo caso la t1 riguardava il recupero di una linea ferroviaria dismessa lungo la val seriana con un numero importante di fermate all'interno della città in questo caso stiamo parlando di una linea che ha tre fermate in comune con la t1 e poi si sviluppa verso la val brembana val seriana e val sono le due valli che insistono una da nord est e una da nord ovest sulla città queste sono le caratteristiche della linea che sono del tutto simili a quella della t1 e anche in questo caso come veniva richiamato prima è oggetto di una richiesta di finanziamento al ministero delle infrastrutture dei trasporti la realizzazione della seconda linea porterebbe a un'ottimizzazione anche sui investimenti realizzati con la prima linea perché sia l'officina di manutenzione sia il centro di controllo sarebbe il medesimo già realizzato con la linea 1 qual è una delle attenzioni oltre diciamo alla alla rigenerazione delle aree di smesse che la che questa nuova linea intercetta nel suo percorso è che la progettazione comprende sia i parcheggi di intescambio di adduzione alla linea tramviaria sia una rete di piste ciclabili con la medesima funzione le queste sono le caratteristiche del servizio che sono appunto analoghe a quelle e lo scenario che è stato analizzato in termini di domanda acquisibile lo scenario di progetto prevede questa proiezione di 4 milioni di passeggeri l'anno nel 2050 abbiamo ridimensionato la proiezione per due fattori che dobbiamo comunque considerare da una parte il pro c'è i processi di tipo demografico dall'altra il fatto che gli strumenti di pianificazione alla scala ampia prevedono la realizzazione di interventi viabilistici questo è un grafo che rappresenta l'effetto che avrà la nuova linea abbiamo condotto anche l'analisi costi benefici come richiesta dal ministero e non sulla base di metodologie come dire predisposte ad hoc come nel caso dell'alta velocità ma sulla base di una metodologia che il ministero ha adottato lavorando con la BEI sul modello i risultati questo è l'imposto il piano economico finanziario le varie componenti vedete che stiamo nella soglia più bassa dei valori che prima venivano richiamati e l'analisi costi benefici mette in evidenza un risultato positivo nel senso che il rapporto benefici costi è pari a 1,86 il lavoro qui ribadisco uno dei concetti che ho detto rapidamente all'inizio tema decisivo è l'integrazione perché sia nel caso della linea c sia soprattutto nel caso di una nuova linea tramviaria l'approccio è quello di e la progettazione realizzazione di un sistema e quindi in questo caso abbiamo valutato due scenari che dal punto di vista anche del della metodologia sono stati interessanti perché in uno scenario avevamo accentuato il taglio delle linee del trasporto pubblico tradizionali ancorché ridefinite nell'altro scenario quello che ha dato risultati più positivi sono state mantenute alcune linee che nella prima ipotesi erano state tagliate quindi anche qui riemerge il tema dell'integrazione ecco un altro aspetto da non dimenticare almeno dal punto di vista di chi come me gestisce sistemi di trasporto è che in cui le simulazioni hanno portato anche in questo caso al superamento della soglia fatidica del 35 per cento come soglia di copertura dei costi questo è lo scenario diciamo è lungante ha semplificato sui tempi di realizzazione dell'intervento se come ci auguriamo tutti noi che domani ci rivedremo a roma al convegno nazionale sui trama dove faremo il punto di tutti questi progetti se il governo e il parlamento a meno che non succedano problemi di altro tipo o i temi della manovra economica finanziaria possano rischiare di ridurre i finanziamenti se quest'estate venisse deciso l'allocazione delle risorse sui oltre 30 progetti che sono stati presentati noi saremmo in grado per il 2025 di attivare questo nuovo servizio questo nuovo servizio che attraversa questa sorta di città lineare che si sviluppa tra bergamo e la val brembana chiudo richiamando a un ulteriore aspetto diciamo dell'integrazione rispetto al quale la cultura diciamo e la politica nel nostro paese non ha sviluppato livelli di riflessione di proposta analoghi a quello che è successo negli altri paesi non voglio scomodare le esperienze tedesche del tram train o anche le stesse francesi ma le nostre città di media grande dimensione dispongono di reti ferroviarie che potrebbero se opportunamente diciamo riqualificate attraverso tre interventi sostanziali diciamo il raddoppio funzionale laddove serve la soppressione dei passaggi a livello e la realizzazione di stazioni intermedie consentire dei servizi che dal lato del cittadino verrebbero percepiti in modo analogo a quelli ritenuti di qualità della linea tramviaria qui come vedete viene rappresentato una uno schema di di rete su ferro integrata dove abbiamo le due linee tramviarie una in funzione l'altra di progetto e abbiamo una y ferroviaria che si sviluppa fra ponte san pietro e montello e verso treviglio dove dove è possibile in via tecnica con alcuni investimenti peraltro che sono in parte previsti da rfi sviluppare un servizio con del materiale rotabile di tipo ferroviario ma specifico per servizi di questo tipo in modo che il cittadino percepisca in modo unitario non solo perché ha una tariffa integrata non solo perché ha degli orari integrati ma proprio perché il servizio viene progettato in modo integrato e questo questo tipo di approccio e questo tipo diciamo di attenzione a questi scenari è l'unico che ci può consentire di agire sul come dire sul mantra che ognuno di noi ogni ogni giorno su cui ogni giorno riflettiamo e cioè migliorare la diversione modale cioè migliorare significativamente la quota di distribuzione degli spostamenti perché la mobilità è un fenomeno in crescita decresce solo quando c'è la crisi c'è la crisi economica e questo obiettivo della diversione modale del miglioramento della diversione modale passa appunto attraverso investimenti importanti qualità del servizio innovazione nell'approccio e i risultati almeno in quelle città dove sono stati realizzati interventi di questo tipo brescia in lombardia con la metropolitana leggera bergamo con il tram firenze con il tram i risultati che ci avvicinano all'europa non solo attraverso il voto ma anche con queste operazioni ci sono grazie